Attraverso il progetto USACT del programma di cooperazione territoriale Urbact2, Napoli guida una rete di città europee per le politiche di sviluppo urbano orientate alla riduzione del consumo di suolo, al recupero del patrimonio esistente e dall'efficienza energetica. Stamattina a Palazzo San Giacomo il sindaco Luigi De Magistris e l'assessore all'urbanistica Luigi De Falco hanno preso parte alla presentazione del progetto che avrà come partner le città di Atene, Dublino, Baracaldo in Spagna e l'area metropolitana di Baia Mare in Romania. È un progetto ambizioso perché vede la possibilità di associare questa esperienza che facciamo a Napoli con quella di altri quattro paesi. Quindi apriamo le porte al Mediterraneo, usciamo in Europa, ragioniamo insieme delle problematiche che comunque accomunano le nostre realtà per quello che riguarda proprio la riqualificazione urbana. È la terza volta che nel programma Urbact Napoli fa da città capofile in un progetto. I principali obiettivi di questa nuova rete saranno dunque una pianificazione urbana in grado di sviluppare nuove opportunità insediative di migliore qualità e contemporaneamente di ridurre il consumo sia di nuovo suolo sia energetico grazie all'uso estensivo di tecnologie edilizie innovative a basso consumo. Sì, è molto importante perché si tratta di un finanziamento europeo, anche in questo Napoli è capofila nell'utilizzo corretto del suolo, nell'efficientamento energetico, nell'utilizzo del territorio ma anche di quelle che sono le costruzioni, i ruderi da riqualificare della nostra città. È importante perché si dà un messaggio di conservazione e rispetto del territorio che Bruxelles apprezza soprattutto in vista di quelle che sono le politiche del 2020 che puntano sull'ambiente, sull'urbanistica che rispetta appunto il paesaggio e il contorno naturale e quella sulla mobilità sostenibile.